Una buona serata, ben trovati ad Alimenti Ferma Tempo in compagnia come sempre di Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo, grazie per essere tornato da noi. Grazie, grazie a voi dell'invito, ben ritrovati tutti. Noi, lei lo sa benissimo, riceviamo sempre tantissimi messaggi da parte dei nostri telespettatori che lo ricordiamo sono sempre persone molto attente alla propria salute, al proprio benessere psicofisico e continuano a chiederci di quella che noi amiamo definire una bacca miracolosa, Giampaolo è così? Sì, sì, è una bacca miracolosa. Tutta la natura è miracolosa. Perché anche le cose non belle comunque hanno, pensi, pensi, a dei veleni che paralizzano. Pensi ad una vespa che si appropria del corpo di un altro insetto e vive nel corpo di un altro insetto per fare le sue orrende, perché non ho ancora capito, l'utilità delle vespe. Sulle api, per carità, sono proprio, guardi, veramente, d'inverno o quando inizia l'inverno che esco e magari ne vedo qualcuna, intirizzita dal freddo che non si muove, adesso non voglio fare il San Francesco, però la più la porto dentro casa. Lei vola e mia moglie dice, bravo, adesso esce e torna e si rintirizzisce, no? Voi capite? Ma l'idea di questa ape essenziale per la nostra vita, che sta morendo per il freddo o che comunque sono miracoli della natura, a volte crudeli. Pensi ad un veleno, pensi al curaro, pensi all'arsenico o a determinate altre sostanze. Arsenico che, anche lì, miracolo della natura. Uccide o cura? Utilizzato in odontoiatria, utilizzato da noi, per uccidere, per far morire il nervo, l'apice radicolare. Quindi c'è questo miracolo che deve solo essere capito e utilizzato dagli esseri umani. La natura offre sostanze incredibili per il benessere degli animali e per il benessere delle piante stesse. Ma parliamo di noi, regno animale, al quale appartiene anche l'uomo. I cagnolini, i gattini, sanno, e come moltissimi altri animali, sanno che è erba andare a brucare, che è erba andare a mangiare per risolvere il loro problema intestinale, allo stomaco, per l'antidolorifico. Gli uccellini vengono a beccare il muro di casa e dicono, ma sono scemi? No, hanno bisogno di calcio, vanno a beccare. Quindi c'è questo miracolo straordinario, gli animali ce l'hanno, attavicamente, ce l'hanno dentro, sanno che lì c'è l'erba che fa bene, sanno che lì c'è... L'uomo ha approfondito un po' di più, poi si è perso lungo la strada, ma ha approfondito, capendo che ci sono sostanze, che ci sono principi attivi pari ai farmaci. Ma allora perché fai i farmaci? E qui l'uomo ha ragione. Faccio i farmaci perché non è che se uno ha un dolore articolare può usare la tua menta dell'orinoco perché ce n'è miliardi di tonnellate. Devi usare un prodotto chimico perché, come sempre, ci sono centomila persone che vogliono l'anello, alcune, poche, hanno il brillante e altre ci montano un'altra pietrizza che sembra un brillante. Così avviene anche nei farmaci. C'è il salice bianco, la cui corteccia, attraverso una lavorazione di macerazione alcolica, ti offre la salicina. La salicina mi ricorda qualcosa, sì, ti ricorda l'acido acetil salicidico. L'acido acetil salicidico mi ricorda qualcosa, sì, ti ricorda l'aspirina. L'aspirina perché è geniale? Perché offre un prodotto di sintesi chimico a quei miliardi di persone che non possono permettersi la salicina ottenuta dalla corteccia del salice bianco. Così l'antidolorifico. Farmaco. Eh sì, ma le controindicazioni di effetti collaterali, ho capito, ma davanti a centinaia di milioni di persone che soffrono di dolore. Non puoi andare a cercare centinaia di milioni di tonnellate nella storia, no? Di Artiglio del Diavolo, di Tarassaco per altri motivi, di Eugenolo, di Basilico Tulsi, non puoi. Di Arnica Montana. Non c'è, non c'è. I fortunati vanno sul prodotto naturale che, se utilizzato e se lavorato come si deve, non dà controindicazioni, non dà effetti collaterali, che agisce, che non agisce solo localmente, momentaneamente, ma agisce ripristinando un equilibrio nel nostro organismo che probabilmente non permetterà più a quel problema di ripresentarsi. Non tutti se lo possono permettere e anche se se lo potessero permettere non ce l'è per tutti. Veramente il cranberry selvatico andrebbe all'asta. Se fossimo tutti milionari, guardi, glielo dico, non lo dico come battuta di spirito e neanche come concetto filosofico, glielo do come realtà. Una bacca come il cranberry selvatico allontana la cistite perché ha un'azione di antiaderenza batterica. È benefica nei confronti delle problematiche urogenitali degli uomini, l'ipertrofia, la prostatite infettiva, la prostatite infiammatoria. Lavorato come lo stiamo lavorando noi oggi, il redberry ha una potentissima azione anche anti-infiammatoria. Quindi è diventato da solo gli alimenti fermatempo, anti-infiammatorio, anti-ossidante, quindi rallenta l'invecchiamento, anti-ossidante, quindi toglie quello sporco dalla membrana cellulare, consentendo alla cellula di tornare a replicarsi senza pazzie, senza follie nell'atto replicatorio, magari modificando il DNA e degenerando. Ha un'azione ringiovanente del cuore, delle arterie e delle vene. Delle vene, cosa sono le vene? Le vene sono i vasi sanguigni che devono rispingere il sangue verso il cuore. E le arterie sono quelle che devono spingere il sangue con i nutrienti e l'ossigeno dal cuore, dai polmoni, nella piccola circolazione, mando ai polmoni, riempio di ossigeno, torno al cuore e mando in tutti i distretti dell'organismo. Questo porta nutrienti e ossigeno, vita e vitalità anche al cervello e a qualcuno. Non gli arriva il sangue al cervello, glielo dico io. Io conosco gente che proprio non gli arriva ossigeno e sangue. Questi qua, mangino il loro berri tutti i giorni, si riaprono i capillari, si sveglia il loro cervello e ricominciano a ragionare da esseri umani. Abbiamo rispetto di questa natura, no? Ed è per questo, Gian Paolo, che la chiamiamo miracolosa perché in una bacca sono racchiuse più proprietà. Se non sbaglio, fino a poco tempo fa lei si occupava anche di altre sostanze presenti in natura, poi le ha un po', diciamo, abbandonate. Sì, perché vede, diceva, credo il fondatore della Ford, insomma un grossissimo industriale americano delle automobili. Non c'è progresso se non è alla portata di tutti. Non c'è evoluzione tecnologica, non c'è benessere se non è alla portata di tutti. Se no diventa un frutto raro a disposizione solo di poche persone. Allora, non solo chi fa qualsiasi mestiere, in particolar modo il mio, deve portare la sostanza che mi fa bene, ma deve portarmi anche l'opportunità di utilizzarla. Vede, se fossimo a 30 anni fa, io mi ricordo 25 anni fa, per i dolori la soluzione 21, fantastica, a base di basilico tulsi, di artiglio del diavolo. Per i problemi gastrointestinali avevo un'altra sostanza meravigliosa. Per i problemi urogenitali, per i dolori articolari, per i dolori muscolari, per le programmatiche di tipo cardiovascolare, per il cervello, per il sistema immunitario. Dici, ma allora hai imbrogliato le persone per 30 anni? No, eh. Io per 30 anni ho portato il meglio che la natura avesse rivelato di sé ogni sostanza per ogni prodotto. Poi, non del 2009, ma prima del 2009, ancora prima che la Blackburn prendesse il premio Nobel per questo motivo, scopro che quasi tutti i problemi degli esseri umani, problemi tipo di salute, derivano dall'ossidazione e dell'infiammazione. E mi sono messo a cercare il più potente antiossidante e il più potente antinfiammatorio. E 40.000 persone mi hanno dato ragione. E mi hanno detto hai ragione. A se star gli estremisti, cioè i medici tutti cattivi, i farmaci tutti che ti uccidono. No, i medici sono tutti buoni, i farmaci sono preziosi. Però aspetta, proviamo a non arrivare da questi qui. Arriviamoci con un cibo, alimentazione ipocrate. Il padre della medicina moderna ha detto a noi erboristi cercate un alimento antiossidante, cercate un alimento antinfiammatorio, perché questi sono quelli che ci allontaneranno dai problemi, dalle malattie, dai medici, dai farmaci. Certo. E ne abbiamo individuate due. Oggi possiamo dire il reberi silvatico è veramente il concentrato di tutto ciò che ci serve per togliere le due cause di tutti i nostri problemi. Benissimo. Giampaolo, ci fermiamo per una brevissima pausa. Rientriamo tra poco parlando ancora appunto del Redberry. Erbe medicali presenta Usa Redberry, il ringiovanente che fa stare bene. Immediata energia fisica e mentale. Usa Redberry, il Redberry palustre selvaggio del Quebec, l'originale di Giampaolo Tocco. Il vostro rimedio efficace e immediato contro la stanchezza e la spossatezza. Il vostro ringiovanente che fortifica il corpo e sveglia la mente. Disintossicante, depurativo, per ritrovare i corretti valori di colesterolo e glicemia. Il vero ringiovanente della pelle e dei tessuti muscolari. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec, che compone il preparato alimentare Usa Redberry, rivitalizza l'intero organismo. Tonifica il cuore, le vene e le arterie, per riportare a valori normali la pressione. Riapre i capillari, per ridare vita al cervello e per proteggere la retina, migliorando la vista. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec è il potentissimo antiaderente batterico, che protegge il tratto gastrointestinale e urogenitale dalle infezioni batteriche, sconfiggendo le cistiti e le altre possibili infezioni del tratto urinario. L'azione del cranberry selvatico è inoltre un'ottima protezione e prevenzione contro le patologie che colpiscono la prostata. Solo nei terreni selvaggi e incontaminati del nord del Canada nasce spontaneamente il mitico Redberry palustre selvaggio del Quebec, che noi trasformiamo in uno spettacolare preparato alimentare che da oltre 27 anni entra nelle vostre case, portando energia, salute e vero benessere fisico e mentale. Chiamo subito per verificare la disponibilità dei prodotti e prenotare l'offerta speciale di oggi. Una confezione di USA Redberry da 30 compresse a base di Redberry palustre selvaggio del Quebec, 29 euro più spese di spedizione. Ma se lo desideri, oggi puoi richiedere 3 confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna in offerta speciale, a soli 49 euro più spese di spedizione, invece degli 87 euro del listino. Ma non perdere l'offerta Bonus Salute USA Redberry, che consente di acquistare 6 confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna, a soli 89 euro invece del 174 del listino. Chiama subito il numero in sovraimpressione e approfitta delle offerte. USA Redberry tutti i giorni, l'antiossidante selvatico che ringiovanisce la mente e il corpo e che riporta l'energia della giovinezza rimettendo in moto l'intero organismo, a qualsiasi età. USA Redberry, funziona! Erbe medicali, giovani fino a 100 anni. Siamo rientrati, Gian Paolo, la nostra bacca miracolosa, vale a dire il Redberry, che concentra, diciamo così, tantissime proprietà che poi sono molto utili per il nostro benessere psicofisico. Sì, perché abbiamo parlato di questo miracolo naturale, che è un antinfiammatorio, antiossidante, drenante, cioè elimina i liquidi in eccesso, la ritenzione idrica, antiaderente batterico importantissimo, ritratto gastrointestinale o genitale, ringiovanente del cuore delle arterie, riapre i capillari, quindi sveglia il cervello, porta nutrienti ai muscoli, è un nutriente, una bacchina così, voi fate una compressina così, la compressina è nutriente, certo. Se io mantengo il 95% delle proprietà organolettriche della bacca fresca, e da un etto di questo Redberry selvatico, io faccio una compressa, perché togli l'acqua, e hai già tolto tantissimo, togli la maggior parte degli zuccheri e dei carboidrati, ma un po' devono rimanere, è nutriente, è un carboidrato, qualche milligrammo di carboidrato a quei livelli, non sto parlando della pasta super raffinata, del pane fatto con il grano bombardato di raggi gamma, non sto parlando degli zuccheri raffinati, sto parlando di un carboidrato, di un bacca a questo livello, è nutriente e nutrimento per il cervello, minerali a volontà, quelli che andiamo a comprare per integrare per gli uomini lo zinco, per il magnesio, quella serie di sali minerali che noi ci andiamo a comprare uno per uno spendendo 18, 16, 12, 20, perché sono lì. E da un etto di Redberry fresco noi otteniamo una compressa di un grammo di cui il 20% sono principi attivi, 200 milligrammi di principi attivi, è una esagerazione. Poi il resto, naturalmente, serve per fare la compressa, eccetera. Questa quantità, sotto i 40 anni, è sufficiente per garantirsi un apporto minerale, vitaminico e di antiossidanti, perché i minerali mi servono e le vitamine mi servono, ma sono gli antiossidanti la carta vincente. Gli antiossidanti sono la carta vincente, piglia tutto, perché se l'ossidazione e l'infiammazione sono la causa di tutti i miei problemi, Barbara? Tutti. Meno che quelli del vicino che la notte ascolta la musica inascoltabile fino a tardi, però è giovane, lascia l'ascoltare. Ecco, Redberry non toglie quel problema. Non si trova a parcheggio? Ecco, Redberry non toglie questo problema. Ma i problemi seri che si chiamano, non vorrei parlare di patologie, perché giustamente poi la gente pensa allora è un farmaco, allora mi cura. No, è molto di più. È una bacca che entra nel mio organismo e lo rende forte. Toglie quell'ossidazione, toglie quell'infiammazione, l'ossidazione che è la ruggine, e toglie quella infiammazione che sono l'ingresso, l'inizio, la patogenesi, l'inizio di una malattia. Dice quale? Tutte. Tutte. Qualsiasi malattia nasce da uno stato infiammatorio. Che cos'è lo stato infiammatorio? E la risposta del sistema immunitario ad un insulto. Che sia alimentare, che sia l'inquinamento respiratorio, che sia psicologico, che sia traumatico. Un insulto davanti al quale il sistema immunitario si muove, va a iniscare una guerra, si chiama stato infiammatorio. Se lo risolvi in due giorni, quello stato infiammatorio è stata la guerra che ha risolto il tuo problema, ha sconfitto il nemico. Se non lo risolvi in uno, due, tre giorni, quello stato infiammatorio, quella battaglia, diventa una guerra. E la guerra che si protrae nel tempo fa perdere tutti. Tutti perdono in una guerra. Tutti. Anche chi la vince. per cui un sistema immunitario che lavora per troppo tempo in un'area non ha più il tempo di andare a vedere. Pensi che uno stato infettivo virale sovrapposto a uno stato infettivo batterico ti schianta. Perché il sistema immunitario ha capito l'antiaerea non sa cosa fare perché ci sono i sommergibili. Dico per dire, no. E la marina non sa che cosa fare con le bombe di profondità perché gli arrivano i droni. È un sistema immunitario sballato che non sa più come autoregolarsi davanti a due tipologie diverse di aggressione. batterio che entra ed è patogeno per i fatti suoi. Virus che entra e non è affatto patogeno. Il virus non uccide nessuno. Il virus deve entrare in una cellula e una volta entrato nella cellula diventa un patogeno. Cioè può innescare. Il sistema immunitario deve avere due modi diversi di reazione. E poi mettiamoci la possibilità di un processo degenerativo. Siamo già entrati in un argomento di cui non voglio parlare. Perché se siamo arrivati lì abbiamo bisogno del medico abbiamo bisogno dei farmaci e la nostra qualità di vita è finita. La nostra serenità è finita. Quindi il suo discorso Gian Paolo rientra in un discorso puramente di prevenzione o anche di cura? Allora è prevenzione primaria e la prevenzione primaria non è una diagnosi precoce. Quando mi parlano venite facciamo prevenzione faremo una diagnosi e vediamo in anticipo che problema avete. No! Mi stai dicendo in anticipo che problema ho. Io non voglio sapere in anticipo che problema ho. Io non voglio avere quel problema. Per non avere quel problema devo fare alcune cose non fare altre cose. Il non fare sappiamo cos'è. Evitare di fumare come un matto di bere alcolici a tutta forza di mangiare grassi in grande quantità gli zuccheri che sono terrificanti specialmente quelli raffinati sappiamo che l'inquinamento non lo possiamo sfuggire sappiamo che le preoccupazioni sappiamo che i dispiaceri che le paure tutte queste cose sono le cose che fanno male non dovremo avere dispiaceri preoccupazioni paure mangiare gli zuccheri dall'altra parte ciò che dovremmo fare dovremmo camminare tutti i giorni siamo macchine fatti per camminare e correre ma 80 anni 80 anni vai fuori e cammini ripeto mio suocero è stato mia suocera la bontà più infinita la donna più amabile del mondo e mangiava però camminava mia suocera adorabile col suo motorino le andava anche a una certa età andava a fare la bella camminata dice in chiesa ma che le fa bene non solo allo spirito va in chiesa ci credi o non ci credi ma intanto si fa due chilometri ad andare e due chilometri a tornare che fa bene l'altro il cagnolino deve portare fuori il cagnolino ti salva la vita quel cagnolino lì perché il giorno che non hai voglia di uscire lui abbaia davanti la porta con il guinzaglio in bocca e tu lo devi portare fuori e tu non sai che in quel momento lui ti sta salvando la vita mio suocero andava in orto sempre non c'era stagione dell'anno in cui lui si bardava di più col freddo e si spogliava col caldo ma lui si muoveva andava giù a piedi all'olio dove avevo l'allevamento dei lombrichi e mi piaceva da morire e faceva la camminata con la nostra cagnetta briciola andava giù il movimento lo facciamo no la gente non lo fa più e soprattutto nel fare c'è l'alimentazione introduci nel tuo organismo gli antiossidanti e gli antinfiammatori e dove vado a prenderli? lì lì questo è un preparato alimentare questo è un preparato alimentare non è un integratore no ho voluto rispettare più possibile le indicazioni non del guru indiano quello col cappellone con i baffoni tu devi mangiare queste robe qui no 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 io ho voluto rispettare il padre della medicina moderna della scienza moderna della medicina che si chiama Ippocrate che ha detto è il cibo la tua medicina è nell'alimento che trovi la tua vita il tuo benessere la tua salute lui dice il cibo ti curerà come un farmaco io sono erborista non posso permettermi il lusso di dire il cibo ti curerà perché giustamente i medici potrebbero dire scusa ho studiato tutta la vita non ho capito niente ma ho studiato tutta la vita ho mandato la medaglietta ho mandato la laurea quindi solo io posso parlare di cura va bene parla di cura Ippocrate può parlare di cura? Ippocrate dice il cibo è la tua medicina vis medicatrix nature la forza guaritrice della natura quindi non nascondiamoci non beiamoci non facciamoci dare la medaglietta io più di te perché sono direttore dell'istituto io invece sono l'organizzazione mondiale della sanità io l'organizzazione universale no ragazzi non è così che si affrontano i problemi di salute della gente si affrontano investendo i soldini per risolvergli i problemi e i problemi si risolvono anche con i prodotti naturali appello perché le malattie rare non fate ricerca perché dopo i prodotti che fate ne vendete così pochi che non vi ripagheranno dell'investimento ma se ve li abbiamo dati noi i soldi se non pete le palle dalla mattina alla sera che volete le offerte al numero di conto corrente per fare ricerca vi stiamo pagando fate la ricerca anche sulle malattie rare di alcuni bambini ai quali viene detto non c'è il farmaco perché non spendo schei per guarire solo mille bambini si spendono i soldi per guarire anche un solo bambino questa è l'etica dei medici che guardano alla natura sorridendo con aria di sufficienza la natura non va guardata col sorriso supponente con l'aria di sufficienza guardata con rispetto con amore ma soprattutto con grandissimo rispetto perché la natura ci dà tanto ci dà tutto grazie Gian Paolo l'aspettiamo presto grazie a voi grazie Barbara grazie a tutti voi grazie a tutti